Grazie a tutti. È l'obiettivo dell'Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale, un organismo permanente la cui prima giornata di lavori si è svolta ieri, 7 gennaio, al Castello di Frontone, un ente fortemente voluto dall'assessorato all'agricoltura regionale e che rientra nel progetto Frontone 2021 nell'ambito delle iniziative del PSR Marche, atto a rilanciare e dare impulso ad un settore importante per l'economia della regione come quello agricolo. Un giorno molto importante questo per l'agricoltura marchigiana, abbiamo messo insieme in questo castello bellissimo a Frontone le associazioni, gli imprenditori più significativi, i tecnici che lavorano intorno al mondo dell'agricoltura, anche gli accademici, per avere un contributo reale su come migliorare questo settore, visto che abbiamo una possibilità di finanziare i prossimi 7 anni attraverso il PSR europeo che è davvero molto significativo e quindi su questo pensiamo di buttare le basi di una nuova economia agricola che riparta. Durante la giornata svolta la presenza del capodipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Blasi e dell'autorità di gestione del PSR Marche Lorenzo Bisogni, oltre all'agricoltura i temi trattati sono stati quello dei cambiamenti climatici e della sostenibilità, la tutela dell'ambiente, il rilancio della filiera e l'internazionalizzazione dei prodotti del territorio. L'ospicio è superare il prima possibile l'emergenza sanitaria perché è oggettivo che seppur non c'è solo l'emergenza sanitaria, l'emergenza sanitaria ha un impatto devastante sulla nostra economia, sulla nostra quotidianità, la socialità e quindi non può essere considerato questo un momento normale. fatto, speriamo presto, questo passaggio importante e io credo che l'auspicio più importante sia quello di riuscire a creare una visione condivisa del nostro territorio e della governanza del nostro territorio.